musica 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 più zero ah no ragazzi che cosa sapete che c'è una missione impossibile pesca 10 pesci impossible impossible Giuseppe per favore di fai quel verso diciamo da virgolette verso no ragazzi sapete perchè deve essere fino ad aver fatto una missione impossibile eh infatti che dove sei con te figliolo eh vabbè io ragazzi ho scoperto un posto dove questa missione è più facile di una formica ma come cap è possibile in così tante missioni chi lo sa non lo so ma vorrei saperlo ragazzi comunque ho scoperto un posto dove questa missione è facilissima sapete qual è raga no bellissimo limite di inca raga limite di incarichi 20 incarichi in tutto 22 wow c'è qualcosa che non quadra mi dicono c'è qualcosa che non quadra molto l'olio vogliamo c'è quadra che non cosa no raga 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 io ne tengo una ancora più difficile io aspettate siete pronti si si l'accogli in metallo l'accogli in metallo no ma la dove infatti io ne tengo una ancora più difficile io una domanda dove dobbiamo attenzare è ecco ma come la ho puntine scogliere ehi ehi sentite e ho la non c'ha di riva no 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 sentite ovvero guido una barca e vabbè no no ma io vedo ancora uno più ancora più difficile raccogli un vasetto di lucciole no vabbè no vabbè impossibile io giuro che dopo la missione l'accogli di lucciole sto svenendo usa mod su un veicolo no vabbè ancora è molto più difficile ma come fai frate ma raga una tannica di carburante raga da me ci sta il boss io mi devo incazzare io non sono uscita da di fare perché il boss diciamo tra virgolette il mosto grosso il mosto grosso il gigante colossale io lo chiamo mosto grosso come dice favij mosto grosso e io lo chiamai gigante con la storia di attacco al titan e lo chiamo mosto grosso ciuppa più mugnegna? c'è un auto? eh ciuppa per tutti ciucci le palle che sto bullismo? dove stanno le canne da pesca? che sto bullismo? eh? da me bullismo molto giovanni è un semico razzista io sono appena atterrato sono venuta a farti compagnia e non mi lasciare nuova pistola che bello non l'ho mai provato no vabbè a dolo io le dico non ho ancora fatto la nuova pistola io le stengo in carico di che danno con le pistole chium 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 chiumä cha ma guarda la pesca che è sto bullismo? è il bullismo che il gioco ti vuole male Script a ci sono una piccola sono troppo forte troppo forte wow mi chiamavano Kiddy mi scommetto che di un bot mi scommetto che non conferences qua uguale a quella normale che cambia è solo che è più smirata Chi deve essere sottotiro Chi deve essere sottotiro ovviamente Già sono stato sfigato Nella modalità fashion show Ma pure sottotiro Ora sono nella fase finale Quindi ti posso proteggere Non ti buttere tutte le puzze Ma andami raccogli Il metallo Francesco Eh lo so ma non c'è Oh no ci stanno avvicinando Mi faccio due Venite me dei me dei rinforzi Vogliono fare il culo a Francesco Ripeto Eh noi siamo a fanculo Eh vai anche fatti un bagno Vada a fare un bagno In bagnani stanno Poi vai In bagnani stanno E bagnani stanno Bello Ma io stiamo girando Ma che fai stiamo girando Stiamo girando in tutto Senza Dove andare Ecco No ragazzi Io mi posso incazzare di una cosa Cosa Ovvero Devo pescare pesci Ma quando ho pescato Mi ha dato uno scar Ma perché Ehm cabbo No pinga 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 Devo vedere Allora No vabbè Vaffanculo Agave devi So quanto si è alzata La regina dei cubi E vabbè 349 metri Ah si Si è alzata di parecchio No fermo E niente Eh ma io li tengo Ah ne ho visto fortunatamente Franci Giovanni Giovanni E la mira Parte 1 Eh Giovanni Noi abbiamo la mira più bella Di non so chi No li vieni Se non vuoi Se non vuoi essere appertito Alzi Lo io la danno E la un bello zaino Lo zaino Lo scontrovere è troppo bello Io vorrei tanto fare le live Solo che la mia connessione Fa veramente schifo Quindi ho aspettato la nuova C'è quella pistolina blu C'è la pistolina verde Fa questo file La mia mamma da loro No Prima si fa la retromarcia Io mi rischia Siamo sottotiro Però fra Non c'è nessuno Minaccia è uno Che bella Questa è fortuna Due livelli In una sola partita No va bene No Ma non sono due amici Di giornaliere Ciao Buongiorno Ti facciamo l'incarico Ti faccio la benzina Ti faccio la benzina E adesso hai capito questo Giuseppe c'è il dono per te Vai dio del sus C'è uno scildone Dio del sus Sus Bravo E se sei pure filo La marca del mio Sustile Si chiama proprio Sustile Ma che bello Dove stanno le lucciole? Qualcuno tiene colpi mitra Io Ma mi servono Va bene Tieni Devo solare solo questo Let's go Buongiorno signore Vuole un passaggio? Dove anche Magari investimi Ok No rega Cento e quattro metri No seriamente 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 No seriamente Seriamente No seriamente Vieni Cento e quattro Cento e quattro Rega andate a vedere Rega cento e quattro Rega non vi muovi No rega non E perché Cento Duecento quattro Odici Cento quattro Perché sta guidando io Per questo Oh Non mi toccata Giovanni Che va ammazza la famiglia Non mi toccata Non è proprio vero Ehi Mettili in merda Arrivo Lotto Accida Mi investo raga Arrivo Dio del sus Vai a earnest Investirli Dio del sus Oh ma scassata l'auto Sta qua Dai Mi ho scassato l'auto Mi ha scassato l'auto Mi dì Mi dì Mi dì Mi è stasci un'alimbopporo Mi dì Mi dì Mi dì La qui La qui signori Metti il tetto che ci tirano da sopra Tieni Aia Aia Aiuto amici Aiuto amici Ho bisogno di aiuto Amici Aiutatemi Amici Oh amici me cagate Qua con l'amico la pistola Che bot Raga costruite Finisci quello Terra No no Che è stato La pistolina Infatti anche io l'ho fatta la pistolina Che nazi Ok Aia Laga aiuto aiuto Laga aiuto Io c'ho un cazzo di vita Il cazzo Il gavio il cazzo Ah hai trovato i miei amici pesce anche se non sono cartondo E io mi ci ho portato le tre meditita chi li vuole Ok Chi vuole meditita questi Ah basta Tenga Tenga signore Non mi serve Ah tengo Tengo 92 di vita Va bene E ne tengo tre tante Inutile Inutile? C'è un pò più mugnagno No No C'è un pollo Un pollo C'è un cazzo di cindiale e pollo Che bella coppia Ragazzi mi devo incazzare Ragazzi mi devo incazzare 9-10 pesci pescati No Non andiamo a ditere Non andiamo a ditere Stupido Mamma mia Tendiamola Stipo nel culetto Ah voglia Eh Francesco guida Cosa guido? Francesco guida La macchina Eh dove? Quale macchina? Questa Questa Eh infatti La sto per guidare Sto facendo il metallo E me il mio taxi Io così manco Io la GTA 5 E mettendomi un po' sopra Senza fare niente Nemmeno sedendomi Grazie Guarda non la faccia fa sta cosa Guarda te Tu la sai fare queste cose? Eh? Sulle macchine Oh che stai tu sopra Io la posso Wow Sali Sali Buongiorno 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 I seguitelo Ma lei è malattima No No Sto sceso E solo E solo E solo qua Mi sparano anche Ma io Sto Vanatelo Fatelo fuori Evole Evole Sto pigati Sì Che Che bolletto cosa che faccio? Venite qua! No, perché si è lento, non ci sierai mai. Perché è normale un taxi sull'erba non vada. Oddio, ma l'ho immaginato da lontana! No! Ormai che resta razzista! Che resta razzista? Non era finito. Di nuovo! No, loro ce lo fanno... No, loro ce lo fanno proprio apposta, eh, ma oggi. No, che cazzo. Non ti voglio più vedere, tu non sei più amico. No, raga, ma oggi contro di me lo fanno proprio apposta, eh, mamma mia. No, l'hai investito. No, raga, c'è la minaccia. A Sabe c'è la minaccia, due, non ci vado. Ok, bene. Io vengo a pompa blu. Minaccia tre, andiamo a fanculo, vai. Andiamo a fanculo sulla... Via! Vola una bomba sulla scuola, la peside che vola, con te colte in gola, e io devo fare i mats! Ragazzi, amici! Sto attaccato! Will to run! Will to run! Dai, ragazzi! Ti prego, lasciatemelo! Ma se dentro il negozio è stata andata a corto del lui... Ecco, bravo! Ehi! 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 Ma lo fate apposta! Se non ci riesco a vini, ho deciso di rinforzi! Ragazzi, venite, ho bisogno che qualcuno vi fuggi! Ce la facciamo di fuggi, aspetto! Ce l'ho dato uno! Non posso fuori! Ragazzi! Dove posso uccidere, vi prego! Bravo, pepsus! Certo in cesto! Oh, la bomba sulla scuola, la peside che vola! Con te colte in gola! È morta la maestra! Gli alunni fanno festa! Guardi, per rifacere, non ve l'elementare, ogni volta c'era la cosa là, appunto, che dovevamo uscire da classe esercitazione, in caso di emergenza, diciamo sempre... E dai, quando è che cade la bomba sulla scuola? Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Non mi ricordo! Sì! Ragazzi! 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 Tengo le splash! Ciao! Grazie! Ciao! Ragazzi! Ma stava facendo il medico! Eh, vabbè! Non te lo fai! Meglio col se... Giuseppe, pepsus, dio del sus, è meglio col se vacce nel medico! No, ragazzi! Io mi sto incazzando! Ragazzi! Ma no! Ragazzi! Posso avere colpi assalto? Oggi 25 colpi assalto! Ragazzi! Posso avere che non c'è neanche... Non c'è neanche mazzo! Non c'è nulla! No! Ma i fratelli scheletri! Sì! Mi chiamo e vengo... Avete notato la safe? L'avete... L'avete notata? Sì! Non si può nemmeno a ballare! Oh! Due macchine! Due! 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 Una terra! Scusa! L'ho scusa! Eh, scusa! L'ho di ovunque! Ma sono spalla uno! E' all'unico nove! Aspetta! Ragazzi! Oh, te lo buco! powiedzmy Ragazzi, me lo faccioavatare uno! Prima di quanto si nemmeno! Niente! A volte a Meloli ci vengono Dei attacchi di proalcine Mi prego Mi prego Mi prego Oh ma che rettica A te da uno Aia aia Ma l'ho sciolto Raga ma l'ho sciolto A me Per questo è abita sempre in pietra Abita che in pietra Aia Francesco ecco mi sono andato a darti una mano Aia Mi faceva andare indietro No no Dio del susto mi dispara Ma mi aspetta per favore E' da lengo 12 kg No Ma provvedete Che confide in voi Sia l'unico Ok Eh potete ci nera curati Eh aspetta fateci curare Raga fateci curare Aspettate ragazze Deve fa curare Deve fa curare E io non ti diceva niente E lui che si lamenta Ecco infatti Ok Raga tengo 13 kg Raga tengo 13 kg E io 5 Fatemi correre Io 6 Corri in secco Corri in secco Corri in secco Lolli che provate abbiamo fatto Ma soprattutto io Franchi che mi dovevo Sotto di secco Scusa Giovanni ma devo uccidere questo pollo Scusa Deve uccidere Mi serve per la vita Mi serve Ok Per quello va bene Raga in questa partita mi sono gasato Potrei averlo attelato Bella raga 6 kg Grazie a tutti.